Giorgio Gremaschi, oggi Rossa presenta un'importante raccolta di firme per analizzare e fare il punto su questa Europa che non ci piace e non ci può piacere più. No, noi vogliamo il referendum, tutti dicono che lo vogliono ma atti concreti per averlo non ce ne sono. Ho visto che anche ieri c'è stato un rimpallo tra 5 Stelle, Lega, la Lega ha detto che il referendum non è costituzionale, non è vero, c'è già stato un precedente nel 1989, c'è stato un referendum in Italia per approvare i trattati europei o se ne potrebbe fare un altro accompagnato alle elezioni europee o anche dopo, un referendum consultivo con legge costituzionale, non è che non si fa perché non si può, non si fa perché non si vuole, perché al di là di tutto un referendum costringerebbe il palazzo della politica e dell'informazione a informare almeno in parte i cittadini di ciò che i cittadini già sospettano ma che non gli viene detto e cioè che quest'Europa ormai è una dittatura bancaria e finanziaria in cui la voce fondamentale l'ha il governo tedesco e tutti gli altri devono obbedire. Io devo dire mi sento anche umiliato dal fatto che il Presidente del Consiglio italiano vada in Germania per chiedere l'autorizzazione a dare una mancia preelettorale perché poi di questo si tratta, a una parte dei suoi elettori con la restituzione del fisco, mancia che pagheremo quattro volte come si è già visto con i tagli della spesa pubblica, con le privatizzazioni, la verità è che tutta l'Europa dell'euro e delle banche sta seguendo la politica che ha distrutto la Grecia, cambiano solo le dosi ma la politica è la stessa e a questo non c'è risposta. Noi ne diamo una piccola, una risposta democratica, naturalmente ci vorrebbe anche che non scesse in Italia come in tutto il resto d'Europa un movimento democratico per rompere questa dittatura che ci sta oggi distruggendo sul piano economico e sociale.